Musica Bella ragazzi, qui fra i zindi che parla E siamo oggi in quello che dovrebbe essere l'ottavo o il settimo episodio della serie Andremo a incontrare, a sconfiggere si spera, il gran boss Allora, andiamo di qua Eccolo qua Ma quello No, che cos'è? Ma sto Oddio Oddio Che casino è? No, è un casino mostruoso Allora Allora, con calma Eccolo qua Ma questo mi sembra Super Meat Boy, dico una cazzata Probabilmente dico una cazzata Eh, intanto lo sto sconfiggendo malamente Ah, già fatto Via Rubino Rubino Benissimo È stato velocissimo Che cos'è? La cosa che fa da elicottero Cosa brutta da vedere Mamma mia Andiamo Vediamo se c'è ancora qualcosa qui da fare Ah, cosa è successo qui? Oddio Ma quello Ma quello Te lo distruggo Ma potessi solo distruggertelo E non posso invece Via Qua sono sempre felici Non c'è niente da fare Via Andiamo Nella nuova Ah, aspetta Qui c'è qualcosa Ah, no No Via Andiamo nel nostro Nuovissimo Di qua Di qua Eccola qua Urra Allora, andiamo La faccia Sono sempre bellissimi Via Deserto Andiamo subito a vedere L'episodio Il episodio Il livello 3-1 Su, su Vediamo cosa c'è di nuovo Con la W Ah, ho capito Con la W posso Planare dolce Dolcemente Però Devo ancora Così Ah, ok, bene Bene un caso Via Via Piano 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 Ho detto Ah Perché Non riesco ad abituarmi Via Via Allora, con calma Con calma Con calma Via No No, però Non ci sono Checkpoint In questo livello Che fastidio Con calma Benissimo Benissimo Ben salto Et voilà Nuovo livello Nuovo livello Sempre Se queste cose qua però Che fastidiosi Via Via No No Lì Devo proprio andarci vicinissimo Per Ma oh Voilà Ah, ho capito Qua devo No, ho capito Devo usare W W Ah Sono un demente Era molto più semplice Di quello che sembrava Via Checkpoint Ahia Qua si sparano addirittura Così Via 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 E tu Muori E qua come faccio? Ma devo andare Di qua Mamma mia Ah, questo è il E lo Yeti E il pezzo grosso Del Del livello Va bene Via 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 Ma oh Quanto è forte Non mi fa nemmeno salire Allora Con calma Ma oh Adesso mi stai veramente un po' Scassando la minchia Vediamo un po' se Ma come come cazzo Come pretendete che faccia qua Si è bloccato lì Non si muove Lì Oh figlio di puttana Veramente Oh Muori Tu te ne vai via Guarda che botte Botte da orbi Veramente Via Ah non ho sbagliato qua Ho sbagliato tantissimo Via No Voglio Lì Scendiamo con calma Lì Prendiamo tutte le monete possibili E andiamo al nuovo livello Tu veramente Un infame proprio Via In ogni caso è meglio non rischiare Con questi cosi qua Muori Benissimo L'O2 L'O2 Se restano là tranquilli No 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 me le so Mamma mia che rischio Da sotto c'è qualcosa che mi può salvire Si Che faccia ci vado Massi Le Ah ho capito No 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 Non c'è niente Speravo ci fosse qualche bonus E invece no Scendiamo con tutta La calma Di sto mondo Piano Bene Andiamo Benissimo Ah eh Non meno Che idiota Via 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 No Perché Non ho capito Ah quel cosi lì probabilmente No 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 Dovevo saltare meglio Ora No Eh però Devo proprio aspettare di essere Al massimo del volo Ora Eh infatti Al massimo Massimo del salto Ah io qua ci vado Pozioni E qua mi darà qualche Bomba E questa come la prendo? Non la prendo Lì E lì Via Al prossimo livello Al prossimo livello Helicopter a tongue only Benissimo Via Congratulazioni Grazie Grazie Il tempo sarà di nuovo F Va bene Va bene Va tutto bene Va tutto bene Fred Via Qua mi sa che Dove devo andare Ah andiamo qua S for shop Questa musichetta country No no Non mi serve niente di sta roba Yo dog What's up Sarà diaretto texano questo Anzi è di sicuro diaretto texano Allora Sto cercando rubini Stiamo solo riposandoci Va bene Va bene Non sei un cammello Hai detto che era un Era un Un cavallo No Ti sembra Ti sembra un Un cammello Sono un bellissimo Cavallo In effetti Tu sembri esattamente un cammello Ho bisogno di nuove scarpe da cavallo Se vuoi delle rubini Vai a quella Quella lì Vai benissimo Nuova locazione Nuova area Cosa vuoi ragazzo Sto cercando il mio cucciolo di roccia Devo trovare il mio cucciolo di roccia di nuovo Va bene Va bene Cosa ho bisogno Volpani Voglio un bagno di rubini Questo ho bisogno di cinque Ha bisogno di cinque di questi rubini Per farmi entrare nel posto Nella miniera qua Va bene Ma tra l'altro qua c'è un carcerato Oh Si può entrare No Ti libererei Ma non si può Via Qua non c'è altro No Via Andiamo verso Ah no Di quali strane parti sei? Sto cercando il mio cucciolo di roccia Prova ad andare nella miniera Stai cercando un lavoro? Che tipo di lavoro? Ho bisogno di Ripulire il Treitos Gulch Un soco di mostri ci sono Bla bla Va bene Andiamo Ci sono queste due nuove locazioni Nuove posti Andiamo al 3-2 Via Con calma Qui Benissimo Saltiamo Ah però no Non si può ancora saltare Ah Proviamo ad andare di qua No Via No Nemmeno di qua si può andare E da dove posso andare? Ah ho saltato troppo male Ho saltato malissimo Via Molto bene Proviamo ad andare giù di qua Via No Mamma mia Ah Ah qua ci sono Di bestizione Nuovo Via Non mi filo più di voi Non mi filo più niente Via Abbassiamo quella laeva E si può andare di là Via Checkpoint Ah Attenzione Però dove è la fine del livello? Non la vedo Aia Ah è qua Eh però qua mi sto perdendo qualcosa Proviamo a vedere se riesco a tornare Via Via No però Andiamo Eh Basta Lì Ah infatti c'erano un sacco di tesori Via Vabbè soldi Una pozione E Bombe E altri soldi Via Andiamo Ah Pensavo bastasse il salto Via Via No però E andiamo Al nuovo Livello Allora Ah ma tanto questi qua non mi ammazzo Via 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 No 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 Eh però Vabbè Vabbè Non ho parole Ah non aspetta Ho capito Devo appoggiarmi a quello No Le Né un cazzo Dai Dai Oh Via Via Bene Se cominci a morire un po' di volte Il problema è che Dopo parli la concentrazione Eh infatti Io devo rimanere concentrato Altrimenti veramente Rischio di fare I disastri proprio I disastri peggiori Via Bene Via Nuovo livello Ah questo Questo se mi tocca Ho bisogno Ma è nettamente Di una pozione E quei cosi li potrebbero anche aiutarmi Però qua Come faccio Facciamo ora Ora No Però Come faccio a salire di qua Ah dall'altra parte Che idiota Perfetto Via Perfetto Abbassiamo questo Via 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 Oh Perfetto Oh Non l'avevo visto Ah però devo andare dall'altra parte Bene Qua E abbassiamolo E fuggiamo subito Velocemente Via Bene Checkpoint Via Checkpoint Ah da checkpoint Ah quanti checkpoint Dove devo andare Ah devo andare su di qua Via Oh molto bene Ora Benissimo Salto No 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 Eh ho saltato male Ora Ora Benissimo Checkpoint No qua Mi ha ammazzato di brutto Via E tu via Vediamo tutte le monettine che servono Allora Bombe E pozioni Oh che bello Via Next level Che è l'ultimo probabilmente di questo Di questo livello Ah Dovevo immaginare che quelle cose lì Non fossero salutari Via Con calma Via Ah qualcosa Vi è morto male Ora No 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 Ah Non Ma perché Allora Evidentemente mi posso appigliare Ah così Perfetto Sì però tu che mi fai Veramente Mi è veramente scassato Il cazzo Oh Via Uh Mamma mia Come l'ha salvata Come l'ha salvata Saltino Et voilà Livello Fatto Andiamo verso Ah Qua Qua è difficile Come si fa Ah devo saltare proprio A lato Via Uh E siamo a uno Uh E siamo a due Benissimo Molto buono Grado C Va bene lo stesso Dai Il solito Fred Molto bene Penso Che possiamo Anche Terminare L'episodio Qui E Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Tanto io vago Nel Nel deserto Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Commentate Con qualunque cosa Le più grosse vintiate Della vostra vita Oppure Qualche Segreto Che mi sono perso Qualche Gioco che volete Vedermi giocare Ci si vede Bella gente Oh Mori male Proprio Molto bene Prendiamo Ha ucciso tutti E che cazzo No No Va bene